Musica Come dire, postuliamo che mettendovi tutti vicini vicini in uno spazio complesso succeda qualcosa Faccio parte di questa cooperativa di Bologna che si chiama BAM Strategia Culturale e noi siamo un gruppo di pazzi che ha deciso, cercava un anno e mezzo fa, un po' meno, che si poteva provare a fare un museo mix in Italia Non è solo uno spazio espositivo per senso di museale e che quindi oggi vi vede protagonisti di questo progetto quindi è molto bello, molto affascinante quale posto migliore di un laboratorio come quelli in cui ci troviamo adesso per fare questo tipo di lavoro Musica Noi siamo dentro a quello che era un laboratorio ceramico che in parte è un museo però non ha le facilitazioni di uno spazio nuovo concepito per questo tipo di polivalenza e quindi noi dobbiamo inventarci sempre delle modalità a scomparsa cioè allestiamo, disallestiamo, rimontiamo, spostiamo continuamente per adattare lo spazio a quello che sta per succedere Cerchiamo di usare gli spazi anche più nascosti e ci piacerebbe che il vostro occhio che è un occhio che non è mai stato qua dentro ne scovasse magari tutti nuovi Bisogna capire su cosa possiamo lavorare, anche i maker ovviamente cioè su cosa possiamo lavorare Far riparare il museo per domenità Noi piacerebbe lavorare sul discorso dei 90 Ci sono ancora raggiunto e adesso posso lavorare su la mia percola a me piacerebbe mettere anche dei video A me piacerebbe mettere anche dei video A me piacerebbe mettere anche dei video Grazie a te Wirk Scusate Scusate Bisogna Grazie Scusate